Ornella Vanoni. La verità sul suo patrimonio. Ciao a tutti e benvenuti al nostro canales. Oggi parleremo di Ornella Vanoni, la leggendaria cantante italiana, e della verità sul suo presunto patrimonio di 118 milioni di euro. Come molti di voi sapranno, Ornella Vanoni ha recentemente festeggiato il suo novantesimo compleanno. Durante un'intervista per promuovere il suo nuovo album, Diverse, ha smentito le voci sul suo immenso patrimonio. In un'intervista precedente al Corriere della Sera, la Vanoni ha affermato che se avesse davvero 118 milioni di euro, non sarebbe stata lì a parlare con il giornalista, ma si sarebbe ritirata su un'isola del Pacifico. Allora, cosa è successo a quei 118 milioni? Ornella Vanoni ha spiegato di aver perso la maggior parte del suo denaro per due motivi principali. In primo luogo, è stata spesso truffata dai suoi collaboratori. Alla fine dei tour, le veniva data solo una parte di ciò che le aspettava, e lei non controllava sempre i conti. In secondo luogo, ha ammesso di aver sprecato molto denaro a causa della sua solitudine. Comprava case, le arredava, ma poi si rendeva conto che nessuno andava a trovarla, nemmeno suo figlio, e quindi le rivendeva, spesso a metà prezzo. Insomma, la storia di Ornella Vanoni ci insegna che anche le celebrità più famose possono avere problemi finanziari. Nonostante una lunga e brillante carriera, la cantante si ritrova oggi a vivere in un appartamento a Brera, un quartiere chic di Milano, ma senza la fortuna che le era stata attribuita. Cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti. E non dimenticate di iscrivervi al nostro canale per altri aggiornamenti sul mondo del gossip. Grazie a tutti.